Erano i primi di settembre dello scorso anno, quando all'indomani dell'operazione Frontiera, condotta dalla DDA di Catanzaro, che ha dato un duro colpo alla consorteria d'antranche Tamuto di Cetraro con il suo arresto, si riunì un consiglio comunale straordinario, dove all'unanimità venne approvato quello che era stato definito un atto storico, la subconcessione protempore del mercato ittico, di esclusiva pannaggio fino a quella data del boss del pesce, alla neonata associazione dei pescatori. Di nuovo, nei scorsi giorni, sempre all'unanimità, è stato approvato dal Consiglio, con atti di altrettanto rilievo, un nuovo regolamento che disciplina in trasparenza e legalità i servizi e la gestione della darsena turistica e del mercato ittico del porto. Due punti cruciali che riguardano la vita di questa città, che riguardano il porto, sia sulla parte turistica, ma il porto anche nella sua parte della pesca, della marineria, per dare sviluppo complessivo e definitivo a una struttura portuale che siamo riusciti a far uscire fuori dalle nebbie, ma che aveva bisogno, come dire, messo a punto per continuare in un percorso di legalità e per rafforzare il principio che non solo non volano di sviluppo, ma rappresenta per cetato l'elemento portante della legalità e non permetteremo a nessuno di farci tornare in chietro. Un atto richiesto dalla stessa magistratura, quella della riapertura immediata del mercato, in tutela delle tante famiglie che della pesca ne hanno fatto il proprio sostentamento. Ma l'amministrazione non aveva fatto i conti con un altro grande ostacolo, le lungaggini burocratiche, a cui il sindaco della cittadina tirrenica, Aita, ha risposto con fermezza e determinazione. Avete dovuto abbattere un altro grande neo, che è quello della burocrazia? Questa struttura non riuscivamo e non riusciamo ad aprirla perché la burocrazia regionale, un ufficio mi dice di aprire, l'altro ufficio mi dice che non posso aprirlo perché la struttura ancora non è stata incamerata. È la solita lentezza e incompetenza della burocrazia regionale che ha bloccato la crescita di questa nostra regione a tutti i livelli. Su questo ci vuole una risposta, così come stiamo facendo noi qui a Cedrado. Io indipendentemente se posso o non posso, oggi ho fatto la concessione dei maniale della struttura del mercato ittico, domani la darò all'associazione dei pescatori che venga alla regione Calabria a dirmi che ho fatto una cosa illegale che mi denunci.